Per cui ragazzi, come vi dicevo, se era leggermente interrotto il video, 14 fonti dove acquisire, perché la regola è tanti rubinetti di tutti aperti. Ragazzi, il concetto è questo. Io non so quante volte mi è capitato di vedere delle persone che avevano una buona propulsione nell'acquisizione di incarichi, ma le prendevano tutti da unica fonte. Esempio Facebook. Poi dopo Facebook è andato giù e ragazzi è stato un problema, è andato giù perché costava molto di più, non arrivava più niente, meno 50% di fatturato. Per cui devi avere più fonti diverse, online, offline, tutto quello che... Ovviamente io lo spiego, non ve lo spiego qui ragazzi perché sarebbero 50 giorni, vuoi nel rispetto insomma di chi fa formazione con me. Per cui 14 fonti di acquisizione è fondamentale ragazzi. Questa roba qui, più ce n'è, poi è chiaro serve anche il processo, tutti gli step che porta da un cliente potenziale, un prospetta, a uno che ti dà l'incarico. Però diciamo ragazzi che questa competenza è un evergreen. Chi è bravo in questa roba qui ragazzi, invece che 800.000 compravendite, ce ne sono 400.000, lui il suo lo fa lo stesso. Ok? Per cui terza competenza fondamentale ragazzi, invece, ok, che è quello di relazione alleanze. Io credo che il patrimonio di un agente immobiliare è la sua lista di persone che fanno il suo nome. Per cui io quando vedo ragazzi della gente che fa fare ai suoi otto ore al giorno di ricerca sui campanelli e non fa uno straccio di appuntamento per allargare quelle che possono avere le razioni, le proprie alleanze, io ragazzi vado fuori di testa, semplicemente perché non sta più capendo come funziona il mondo. Il tuo compito è dedicare del tempo ogni settimana ad allargare i centri di influenza dei clienti passati, cioè le persone che fanno il tuo nome con fiducia nei momenti in cui parlano con qualcuno che deve vendere. Tu ci stai dedicando del tempo? Tu stai seminando ogni settimana per instaurare quella relazione con quell'avvocato o con quel commercialista che potenzialmente quell'avvocato magari tratta divorzi e gli capitano degli immobili che devono vendere. Però non ti aspettare che lui faccia la prima mossa. Sei tu che devi coltivare il rapporto, ti devi far sentire, ogni tanto passo da lì, ti offre un caffè, un aperitivo, fai due chiacchiere, gli chiedi un'opinione e poi magari gli mandi un cliente tu. Perché cavolo ragazzi se voi avete di quella roba lì, voi tra dieci anni, voi campate di reddita, cioè il vostro obiettivo tra dieci anni è mantenere questa relazione. Per cui tutti i luoghi dove puoi conoscere nuove persone e di un certo livello, ragazzi ovviamente non sto dicendo la saga della salsiccia anche se in teoria andava bene, però non sto, quando parlo di alleanze io parlo professionali con delle persone, per cui tu ti stai mettendo in quei luoghi dove ci sono dei libri professionisti, degli imprenditori eccetera eccetera perché io del tempo ce lo dedicherei. Cioè se io potessi andare al Simone Rossi di dieci anni fa, gli direi non sottovalutare questa roba perché io purtroppo l'ho presa sul serio 5-6 anni fa. Però ragazzi questo significa a un certo punto tra dieci anni poter campare al 90% di rendita. Poi attenzione, questi rapporti vanno mantenuti, per cui ci sono una serie di cose da fare che io spiego e racconto nei percorsi avanzati, perché ovviamente se non basta conoscere la persona nello spot, se no la gente si dimentica. Per cui relazioni e alleanze ragazzi dedicate del tempo a mantenere le relazioni esistenti e avere sempre in pipeline nuovi professionisti, nuove persone che in qualche maniera vi può tornare utile. E date qualcosa, seminate, non fate i cacciatori di opportunità ma offrite delle opportunità. Quarto tema ragazzi, cambio colore, quarta competenza fondamentale ragazzi nel 2024 per prosperare come agente immobiliare è la gestione delle persone. Quindi che cosa significa? Significa che le persone che lavorano con te devono mettere la tua maglia aziendale. Significa che quelle persone che lavorano con te è come se fosse loro. E allora perché non è come fosse loro? Innanzitutto ragazzi c'è un problema iniziale di chi hai messo dentro, per cui per me diventa fondamentale che chi lavora con me fa delle robe. Cioè io voglio capire un po' la sua personalità prima, voglio capire meglio, perché dal momento che tu lo inserisci io so che ci devo dedicare del tempo, ok? Per cui per me è molto importante la fase iniziale. In seconda battuta ragazzi, voi dovete dare degli incentivi su tutto. Cioè ogni figura che c'è all'interno, che gravita intorno a voi, ok? Parlo di vostri collaboratori, deve avere un incentivo. Dal responsabile marketing, da quello che vi gestisce YouTube, dalla social media manager, dalla vostra assistente. Tutti nel mio team hanno un obiettivo, hanno un incentivo. Semplicemente perché io non voglio pagare un'ora in più che tu stai qua. Io voglio pagarti risultati. Perché se io ti pago bene i tuoi risultati, allora a quel punto tu dai il 110%, ok? Per cui per me è molto importante ragazzi questo, ed è una cosa sottovalutata. Molto mi dicono, ah ma Simon, ma sai il premio? Allora ragazzi, ma perché ragionate così? Cioè se tu sul tavolo tu riesci a incassare 10.000 euro in più perché lui ha fatto un lavoro straordinario, quei 10.000 che non avresti mai preso, non li avresti mai visti, ma che cazzo me ne frega di dargli un 20% di quella roba lì? In alcuni casi io ho dato anche il 30% su alcune cose, perché lui andava completamente al di fuori da quello che avrebbe dovuto fare. Per cui io questa roba, io ci tengo particolarmente, perché le persone, tu devi pagare un po' in certi ruoli, ragazzi l'assistente tu la devi pagare per il tempo, perché è una dipendente, per l'amore del cielo. Però io gli do degli incentivi su delle altre robe che sono extra, ok? Per cui so che stessa cosa devi riuscirla a fare per ogni persona del tuo team. Dai degli incentivi e loro si metteranno la maglia aziendale. Per cui questo è un pochino tutto. Mindset ragazzi, primo step mi raccomando, se non aggiusti quello tu puoi imparare tutto quello che vuoi, che tanto non lo fai, ok? Se non hai un obiettivo al primo schiaffo molli, se non sai gestire il tema della procrastinazione perché non fai degli esercizi specifici, molli. Se non sai gestire le emozioni, non fai le cose perché hai paura del giudizio degli altri. Acquisire, sapete, ok? Chi ha gli incarichi, i domini nel mercato, è dedica un po' di tempo alla creazione delle alleanze. Questo secondo me è fondamentale, totalmente sottovalutato. Qua sapete dove sono bravi molto? I consumenti finanziari. Perché? Eh ragazzi, lì ti devono dare tanti soldi, per cui si devono fidare. Quindi semini, 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 fino a quando dici sei cosa c'è, vengo da te e investimi soldi. Quarto, la gestione delle persone. Per cui devi sviluppare un po' di leadership, devi avere comunque ben chiaro che cosa devono fare, devi stabilire degli incentivi e in qualche maniera devi farli diventare veramente dell'azienda. Questo è tutto ragazzi. Allora, se vi piace il video, fate like, iscrivetevi al canale e in base anche a come si evolve questa roba qui, io decido quanto tempo ci dedico a questa roba. Per cui so che c'è stato record, come vi dicevo prima, assoluto, con più di 30.000 view il mese scorso, per cui fatemi vedere, datemi proprio delle evidenze che questa roba vi interessa e io continuo. Al prossimo video. In descrizione hai un qualcosa che può essere interessante se vuoi fare un next step a livello formativo, il cellulare, la chat su WhatsApp, se vuoi scrivere un messaggio al mio collaboratore per farci due chiacchiere, capire un po' dove possiamo aiutarti. Ci vediamo al prossimo video da Simone. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.